Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi è intervenuto in merito alla variazione di bilancio votata in Regione, valutando che niente è stato inserito per la progettazione esecutiva determinante per reperire i necessari finanziamenti della variante strada provinciale che collega Pistoia, Montale e Teatro di tanti incidenti a causa della sua pericolosità e dell'intenso traffico anche pesante che la percorre. A dicembre un mio ordine del giorno fu approvato all'unanimità chiedendo alla Giunta di stanziare alla prima variazione utile le somme necessarie per la progettazione esecutiva di quest'opera. Siamo arrivati alla prima variazione utile, non solo i soldi non ci sono ma la nota di attuazione di quell'ordine del giorno a firma dell'assessore Baccelli rimanda a un successivo approfondimento politico di non si sa bene quale natura e con chi l'eventuale stanziamento di soldi. Anche in questo caso oltre a non considerare il ruolo di indirizzo del Consiglio c'è un problema un po' più serio perché la variante Montalese è oggetto di un accordo vero e proprio fra gli enti interessati e c'è già stata una conferenza di copianificazione che ha individuato il tracciato e quindi la Regione oggi sta mancando alle promesse, cioè all'indirizzo del Consiglio regionale, di mettere a disposizione degli enti interessati della provincia di Pistoia e soldi per fare la progettazione. Speriamo che la Giunta già ne rimedi con la seconda variazione di bilancio.